Il prelievo forzoso dei bambini, questa norma, attenzione, giuridicamente, qua lo dico da avvocato e mi gioco la reputazione professionale, questa norma legittima, la stessa norma applicata su Dario, legittima il prelievo forzoso dei bambini con due linee di febbre da casa, perché il trattamento sanitario obbligatorio non è previsto solo per problemi psichici, psichiatrici, è previsto anche per qualunque tipo di sanitario, evidentemente il 90% dei trattamenti sanitario obbligatori riguardano disturbi psichici, ma non è proprio specificamente indicato solo per questo, quindi questa norma si presta persino a toglierci i bambini da casa per due linee di febbre, che si sappia, ecco perché va rimossa immediatamente, anzi ringrazio il cielo quantomeno per questa possibilità di aver capito subito qual è la norma applicabile per mettere in campo dei deliri che sono assurdi e che vediamo sotto i nostri occhi.